Amici e amiche dell'Arechicco, eccoci qua con un altro volto nuovo della stagione 2021-2022, ma anche questo lo conosciamo molto bene. Benvenuto a Faenza, Giacomo Siberna. Ciao, grazie. Ciao a tutti. Giacomo, tantissime volte ti abbiamo incrociato d'avversario e finalmente ti abbiamo qui a Faenza. Eh sì, ho giocato tante volte, abbiamo giocato tante volte contro, insomma. È un ambiente che mi ha sempre fatto un'ottima impressione. Quando ho giocato lì c'è sempre stato un pubblico molto caloroso, un palazzetto in cui si gioca volentieri, insomma. Sia d'avversario, ma adesso invece da giocatore di casa sarà ancora più bello, sicuramente. Come è nata il contatto, l'idea di venire nei Radio Solaris? Ma allora, io ho parlato con Coach Serra che già anche l'anno scorso mi ha chiamato e quest'anno, insomma, aveva un progetto di squadra che mi ha ispirato molto, perché ha in mente una tipologia di gioco in cui mi troverei molto bene con le mie caratteristiche e è un ambiente di cui tutti mi hanno parlato molto bene, quindi è stato molto rapido e veloce la decisione, insomma. Ecco, ottimo difensore, con un'ottima anche mano, perché ci ricordiamo molti i tuoi canesti, arrivi da una bella stagione con San Vendemiano, in semifinale contro Fabriano, bellissima serie terminata 3-2. Cosa ti aspetti invece della prossima stagione? Io credo che quest'anno potremo toglierci delle belle soddisfazioni. Adesso ancora il roster non è completo, ma sono sicuro che un tipo di gioco moderno, come quello che è in mente di fare il coach, in questo campionato potrà pagare molto. Sicuramente ci divertiremo, spero che faremo anche divertire il pubblico. E più avanti andiamo, insomma, più siamo contenti. Ecco, un messaggio ai tifosi, sperando ovviamente di vederli sin dalla prima partita? Speriamo che possano essere presenti, appunto, per tutto il campionato al palazzetto. Io cercherò di farli divertire il più possibile. Alla fine, secondo me, il segreto è se ci divertiamo noi giocatori, poi si diverte anche il pubblico, quindi appunteremo a costruire una squadra di questo tipo, insomma. Perfetto. Grazie Giacomo, buone vacanze, perché sei nella bellissima Pompei, per cui stai ricaricando le pile, ovviamente. Sto facendo un po' il turista, sì. Esatto. Ci vediamo in campo e ancora benvenuto a Faenza. Grazie mille, a presto e non vedo l'ora di iniziare. Ciao, un abbraccio a tutti.